Musica E ciao a tutti gamere in giro, sono Nina e benvenuti o bentornati sul mio canale Oggi ragazzi farò un'altra challenge sulla legge Salse Thailand In cosa consiste la challenge? Praticamente io devo fare esattamente l'opposto di quello che dice il tema Per esempio se il tema è nero, per esempio vestire tutto nero io mi vestirò di bianco Oppure se tipo il tema è rosa per esempio io mi vestirò di nero Quindi devo fare l'esatto contrario di quello che dice il tema L'esatto contrario Ok, il tema è festa in piscina In alcuni dobbiamo vestirci l'esatto opposto Quindi possiamo fare come... Cosa possiamo fare? Posso fare come una... Come una festa di Natale Sì, come una festa di Natale, bello Allora però cosa... Come faccio a fare questa festa di Natale? Oh, questo... Questa gonna qua però direi di mettere alla fine Direi prima di mettere le scarpe perché è più importante mettere le scarpe Allora... Allora... Andrei di mettere queste che tipo non le metto da un sacco di tempo queste Quindi le mettiamo e ci facciamo rosa dai perché perché sì Anzi no Facciamo... Natalizio, va bene Ci piace Ok È molto strano Però va bene Un po' strano Però va bene Ci siamo vestiti Ci stiamo vestendo Natalizi Sì, no Quindi dobbiamo... Dobbiamo... Ecco Ok Dobbiamo Ok Direi di mettere... Di non metterci una gonna perché non so che gonna mettere Magari... Ok Ok Mettiamoci questa Così E magari la corriamo verde Oh mio Dio È tipo ovvio che non vincerò mai Guardatemi Mi sto vestendo Natalizio Ovvio che non vincerò Però... Che ci posso fare io? Allora io direi di mettermi questo perché tipo non lo uso da un sacco di tempo questo corset Ed è molto molto carino No cioè... È troppo Chissà cosa penserà l'altra gente quando mi vedrà Allora posso... No, no Troppo Magari posso mettermi una corra No Posso mettermi questo albero di Natale in testa? Ma sì, dai mettiamoci questo albero di Natale in testa perché ci piace Non me l'ha messo Ok Adesso me l'ha messo Molto carino Ci piace E mettiamo... Oh aspetta Mettiamo anche questa borsetta Meravigliosa Ok Oh mio dio Oh mio dio Vabbè Mettiamoci questi molto carini Questi sempre molto carini Queste lucette come Che è molto molto carino E infine ci cerchiamo dei capelli Magari delle trecce Ok Delle trecce sono molto carine Ne mettiamo magari una frangia Come... Questa Però non... Allora non mi convince molto i capelli Magari... Fai vedere come sembra No È un po' troppo Forse Magari provo i tre No Ok Questo mi piace Mi ho messo questi capelli Molto carini Adesso vediamo di cambiare colore Magari Biondo Oppure semplicemente Un Ok Vediamo anche di metterci delle maniche Ok Credo che va molto molto bene il mio outfit Cioè È meravigliosa Raga proprio È super in tema Con Il tema Cioè Sono sicura che vincerò Un milione per cento Cioè Guardate Chi è che non voterebbe una persona Così Vestita di Natale Oh mio Dio Non vincerò manco Cioè Non vincerò mai Ok Spia Oltra gente Ok Allora Questa stia vestita molto bene Si è proprio vestita da Festa in piscina Quindi ok Vediamo se C'è qualcuno Magari qualcuno si nasconde nel posto segreto No No Nessuno Non si può andare nel posto segreto Ehm Vediamo Dove stanno Secondo me sono tutti quanti qua Infatti Ecco Allora Questa ragazza Ok Si sta vestendo da Ok Da Da parte in piscina Anche questa Anche questa Vabbè Era questo il tema Anche questa Ok Cioè Tutti quanti sono vestiti da parte in piscina Ehm Scusami Ci vuole un po' di Natale Cioè Nel senso Guarda Guardate me Cioè Sono tutta natalizia È ovvio che mi voteranno Ok ragazzi Appena iniziate la sfilata di moda Per me come sempre Mi mette per ultima Perché mi metti sempre per ultima Vabbè Aspettiamo nostro turno adesso Eccomi qua Ciao a tutti Buon Natale a tutti quanti Sono sicura che Vincerò Mi voteranno tutti Perché il mio outfit è proprio bellissimo Ma veramente Meraviglioso Allora Vediamo chi votare Allora Direi di Votare questa Che si è vestita molto bene Poi di votare anche questa Che si è vestita benissimo E anche questa Si è vestita Benissimo Oppure lei E basta Ho terminato i miei Tre voti Tre voti Quindi non posso votare Nessun altro Ma Buongiorno A tutti Oh mio dio Scommetto proprio Perché tutti Mi voteranno Ovviamente Insomma Che che non voterebbe Una ragazza È vestita così Così In tema Meravigliosamente Proprio wow Ok Vediamo un po' Chi ha vinto E Speriamo di vincere Però credo proprio di no Vabbè Comunque Vediamo Al terzo posto Abbiamo questa ragazza Che Non l'ho votata Però Si è vestita anche Molto bene Nel secondo posto Vediamo un po' Abbiamo questa Che ho votato E Al primo posto Vincendo Mille diamanti Oh Ok Anche questa L'ho votata Ok I vincitori Si sono vestiti Molto bene Che vi posso dire Non me l'aspettavo Di non vincere Perché C'è raga Io mi ho vestito Proprio bello Però Che ci posso fare Oh mio dio Comunque Spero che questo video Si è piaciuto Se così Cliccate un pollicione Su iscrivetevi Al mio canale Cliccate la campanellina Per avere tutte le notifiche Del mio canale E ci vediamo In un prossimo video Ciao Cliccate la campanellina